Il concetto è semplice, siamo tre entità e ci occupiamo di auto, Empala, Officina del Pilota e Carcare. Siamo sempre in collegamento fra di noi, ma vogliamo unirci in un unico grande progetto. Siamo sempre in unico grande progetto. Il progetto è ambizioso, siamo in tre, tre appassionati di auto. Io sono Luca, il proprietario di Empower, www.empower.d, che è il sito più grande d'Europa per quanto riguarda componenti tuning. Inoltre, da qualche anno mi occupo di importare auto, in particolare dal Giappone. Lui è Matteo Torrisi, Officina del Pilota. Si occupa di restaurare auto sportive, auto d'epoca. Seguitelo sul suo canale YouTube, Officina del Pilota. Lui è il mio miglior amico, Andrea di carcaritalia.com. Ha uno dei siti più forniti per la cura dell'auto e uno studio bellissimo in cui stiamo registrando, dove effettua il detailing. No, detailing, no, frate. Come on! No. Detailing, c'è un po' di pronuncia. Detailing. Oh, sorry. Dove effettua? Dove effettua? Detailing. Perché dobbiamo avere tre locali diversi di quando possiamo avere un unico spazio con tutte e tre le realtà unite? Immaginatevi soltanto una cosa. Facciamo un appello, no? Cioè, se qualcuno conosce uno spazio simile a questo, che ha una parte frontale dove possiamo parcheggiare le macchine, una esposizione così, su strada, molto carina. Roma Nord. Roma Nord. Mandateci qualche segnalazione e noi andremo ad informarci perché abbiamo un progetto e magari ci aiutate a... A iniziarlo. A iniziarlo, esattamente. Quindi, se conoscete un locale di 500.000 metri quadrati con un ampio parcheggio davanti, che faccia il nostro caso, scriveteci nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale per seguire il nostro progetto. Per seguire il nostro progetto e per seguire il nostro progetto. Al prossimo episodio